Salve ragazze, io sono Rianna, ciao io sono Pamela, lei è mia sorella, come si può ben vedere e vogliamo fare questo piccolo video di presentazione nonostante questo non sia il mio primo video questo perché diciamo che con lei ho deciso di parlare di qualcosa di diverso rispetto ai video librari che faccio non che voglio abbandonarli ma comunque diciamo il mio desiderio sarebbe quello di espandermi e credo che faremo video sia insieme che separate, poi questo verrà tranquillamente a seconda delle situazioni, poi vedremo e vogliamo addentrarci in questo mondo nonostante ci siano tante 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 guru al riguardo però penso che sempre con opinione in più faccia come non guasta no, soprattutto di una persona normale, di persone normali che non fanno questo come mestiere ma sono semplici e appassionate, quindi anche un po' imbranate a volte, perché no per me questo è il primo video, quindi diciamo che sono un po' più in difficoltà perché non sono abituata non sono mai entrata in questo mondo, anzi è lei che mi ha addentrato nel mondo del make up esatto, sì assolutamente e quindi proveremo a fare questa cosa insieme per vedere se può avere comunque un riscontro positivo anche per voi come lo è stato per noi ah adesso facciamo i soldi eh sì, è perché ti fanno i soldi vogliamo diventare famose esattamente no, a parte di scherzi, insomma vogliamo dire anche la nostra e mettere la nostra opinione online è anche l'ora, è tardissimo, sono tornata adesso da una cena e sono molto stanca no, facciamo vedere che ora è, non so se si, no aspetta è mezzanotte è mezzanotte ragazzi quindi è un po' tardi anzi stiamo parlando piano perché ci sono i nostri genitori nella stanza accanto che stanno dormendo quindi dobbiamo fare piano cioè ragazzi non abbiamo più l'età, non per queste cose esattamente e quindi ecco, vogliamo fare questo piccolo video per presentarci in modo tale che insomma poi per le prossime volte è già, insomma un minimo ci conosciamo e poi oltre noi volevamo appunto presentare dov'è? non c'è è in balcone aspettate che la prendo no perché noi siamo, non siamo un duo ma siamo un fantomatico trio perché come ogni guru che si rispetti anche noi tipo io make up la nostra mascotte, la nostra gattina Agatha questo salame bianco guarda qui si fa fare tutto fatti vedere guardate si fa fare tutto poi Mari ci denuncia la protezione animale ci sarà anche lei con noi in questi video guardate i trucchi occhi guardate eh sì, molto egizio la Cleopatra ma dove lei trovi due occhi? guarda una salsiccia bianca emozionante ecco, ora ci siamo presentate tutte e tre, le tre sorelle praticamente abbiamo anche una quarta eh di là però è timida è timida, la presenteremo poi con il tempo più avanti se sopravviveremo a questo scontro di noi che la prendiamo in braccio e cerchiamo di farla proveremo va bene tutto questo è possiamo salutare e andare a dormire sì che domani si lavora esatto è lunedì domani purtroppo e buona serata a tutti ciao ciao ciao